Salve cari e carissimi, benvenuti nel mio nuovo interattivo, andiamo a vedere facciamo questo interattivo, farà qualcosa nei miei riguardi, una data persona che noi abbiamo nel nostro pensiero vediamo se farà qualcosa nei vostri riguardi, quindi voi in prima persona dite farà qualcosa nei miei riguardi e andiamo a prendere la prima carta, beh assolutamente direi proprio di sì, perché qua viene un re di coppe quindi farà qualcosa, e se non fa qualcosa un re di coppe è chi lo deve fare? certo che farà qualcosa nei vostri riguardi, questo è un uomo innamorato, eh madonna mia ragazze, asso di coppe assolutamente, un avvenimento, un qualcosa di strabiliante, un miracolo farà questo vedete, verrà con piccoli passi, così si prospetterà come un amico un amico vi messaggerà e vi incomincerà, non so, magari vi dirà qualcosa così di carino non dirà subito ciò che prova, verrà prima a tastare un po' la situazione, vediamo farà qualcosa nei miei riguardi, vedete questo è una persona che sta in una grande difficoltà ha dei dubbi, sta in crisi, è dipendente da voi, è insicuro, incompreso, pieno di stress e che cosa farà verso di voi? verrà, si sposterà, da dove sta, verrà verso di voi, quindi farà qualcosa, sì prenderà questa barca e verrà da voi, ovviamente tutto è simbolico vediamo ancora, farà qualcosa nei miei riguardi, ma certamente, vedete qui c'è stato egoismo c'è stato blocco, questa persona è stata lenta nelle scelte, ha preso troppo tempo per riflettere e quindi probabilmente quello che farà sarà superare con saggezza queste prove aver superato con sacrificio questo blocco, quindi qui ci sarà il capovolgimento totale di una situazione, quindi questo blocco, questa situazione ferma, improvvisamente avrà un totale capovolgimento e il capovolgimento sarà quello di questo re di coppe e di questo asso di coppe cioè di questa evoluzione sentimentale improvvisa, vediamo ancora, farà qualcosa nei miei riguardi certo, cercherà assolutamente di porre fine a questa separazione a questa rottura, a questa lontananza, a questa assenza che lo porta a soffrire per voi vediamo ancora l'ultima carta, se farà qualcosa nei vostri riguardi ecco qua, vedete, qua vuole superare questi ostacoli, vuole, è pieno di rimorsi lui o lei si è isolato per cercare di capire, comprendere, per rigenerarsi per anche dare modo di riflettere sul da farsi prendiamo proprio l'ultima, perché ecco qua, ecco qua esce l'imperatore quindi qua abbiamo, vi dico i segni, abbiamo sia i segni di acqua quindi cancro, scorpione e pesci e anche i segni di fuoco, sagittario, leone, ma soprattutto l'ariete qui questa persona appare come l'imperatore quindi una persona rigida, autoritaria, per carità, anche un po' egoica una persona importante, con una buona posizione o comunque con un carattere molto ben definito farà qualcosa nei vostri riguardi? certo, perché l'imperatore è una persona che quando decide di dare stabilità o decide una cosa, non c'è nulla che lo può fermare quindi questa persona farà sicuramente tutto ciò che viene descritto in questo interattivo ragazze, io ho terminato, vi ringrazio e vi do appuntamento al mio prossimo interattivo un abbraccio di luce a tutti quanti voi, ciao!